E ragazzi come va? Io sono FeriNiki E io sono Stef e che si chiama TowerUnite E finalmente torniamo su TowerUnite Ovviamente sempre in compagnia di Espijoki e Luca Esattamente, vi preparo già a questa cosa Questo episodio ragazzi è fantastico Succede di tutto, compriamo tantissime novità davvero 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 belle Ed è super divertente Scopriamo il tour a un posto segreto Quindi è davvero un episodio ricco di emozioni e ricco di contenuti Quindi buon divertimento e buona visione Vi volevo dire appunto che io ho un sacco di soldi da spendere E ho intenzione di spenderli Però dobbiamo fare un giochino tutti insieme Allora vi dico che c'è in palio un giocattolo Ok E c'è un palio, un giocattolo per ognuno di voi Quindi siete in tre, quindi potenzialmente un giocattolo a testa Come funziona? Io vi dico l'argomento di cui voglio comprare degli oggetti E voi dovete indovinare uno degli oggetti che io voglio comprare Non è un bel gioco Vi dico, voglio comprare tipo un oggetto per il giardino Voi dovete azzeccare uno degli oggetti per il giardino che voglio comprare Espi ma dobbiamo farlo quando siamo in negozio La zappa te la do in testa Ma non è un bel gioco Stef, non è divertente Fere? Non è divertente Ok Fere non gioca niente giocattolo per lei Vai Espi e Luca Ho fatto la testa per me Luca se vinciamo Fere mi stai inseguendo Con la pistola Stai calma con quella pistola Con la pistola E ho solo quella spara coriandoli Quindi prendetela come un'arma feroce È letale, è letale Ok sì è letale Guarda che Stef è allergico ai coriandoli Magari l'ho ucciso così Quello è Luca che finisce il bagno Diventa tutto rosso Allora partiamo Facciamo il salotto Vediamo Sì Dici? Sì 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 Quindi partiamo dal salotto Come categoria mettiamo Cosa potrei mettere? Forse couch Sì Dai cercate di indovinare Che divano voglio comprare Allora secondo me Il modern e il couch lobby Secondo me il curved couch Quello curvato Ok Fere dice il curved Espi dice il modern Luca? Il modern couch lobby Io il modern e basta Il modern e basta Esatto Ce ne sono due di modern Se guardi bene C'è il couch e il couch lobby Allora Inizio a dire che ci sono andati vicini E sono Espi e Fere Dato che il modern e il curved Sono i due che mi piacciono di più E la mia decisione deriva dal fatto Che non so se si possono cambiare di colori Perché quello curvo mi piace di forma Però Però vedi il tuo preferito era il curved Però il mio si può cambiare di colore mi sa Però quello di Espi si può cambiare di colore Sono diviso a metà Perché quello di Espi si può cambiare di colore E Però più bello curvo Allora Curvo sei comodo Io ma il colore scusa Poi guarda No 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 Ragazzi Espi Espi ha vinto Espi Ha vinto Espi E' più bello Sinceramente quel giallo è davvero brutto Quindi il punto di Espi Ed Espi si è vinto il giocattolo Dopodiché mi serve una patroncina da combinare Però prendo questa weaker couch strike Che sembra simpatica Ma posso continuare a giocare? No Espi E' un giocattolo a testa come massimo Ma come? Andate nella categoria outdoor Quindi gli esterni Ok Ok C'è tantissima roba fantastica Eh ma costa tutto un sacco Costa tutto tantissimo E quindi comprerò poco Dovete valutare anche questo Cercate di indovinare una cosa a testa Lo so L'amaca L'amaca Lo volevo dire io No Espi non gioca più Ha già vinto Quindi l'amaca No io sono fuori Allora La mia opinione è amaca comunque Ok Espi dice amaca Fere dice amaca Luca Io dico ombrellone Allora Fammi vedere l'ombrellone Ok Io volevo dire La fontana ma costa Costa tantissimo la fontana Costa 10.000 Allora Guarda il barbecue Eh l'ho visto La pergola Il barbecue costa 5.000 Ed è troppo La pergola È davvero brutta Prendi questa cassetta di legno Che costa 15.000 Allora vi dico cosa compro Quattro sedie da ombrellone Perché infatti compro l'ombrellone E quindi Luca ha azzecato E compra anche l'amaca Dopodiché compro anche l'amaca E quindi ha azzecato anche Fere Perché è super fonte Guarda se non avessi comprato l'amaca Avrei cambiato casa Espy Non ti lamentare Espy Ok C'erano pochissime cose che dovevo comprare E le hanno indovinate Cosa ci puoi fare Non dovevo comprare nient'altro Di tutte le cose che c'erano E le hanno indovinate Ma io voglio un giocattolo più bello allora Perché ho indovinato l'amaca per due volte Vabbè Ti do il più costoso Dai allora si Ti prende un bel giocattolo Ti do il più costoso Più grande di tutti Ok Dai mi sta bene Mi sta bene Adesso vi volevo chiedere una cosa Per un consiglio Ok Ci compriamo anche la fontana O vi sembra proprio uno spreco eccessivo Secondo me è uno spreco Possiamo comprare tante altre cose belle Che dite voi due? Espy e Luca che dite? Ecco qua Perché se no Ci compriamo il grill Che comunque 5.000 non è tanto E ci facciamo i barbecue fuori Con la piscina ragazzi Sì Espy dai Dai Ci prendiamo il grill Assolutamente Confermiamo Il cibo prima di tutto Ok Vi dico il totale di questo shopping 11.300 Ok Che spesa Dopodiché c'è una sorpresa che adesso compro ma che non vi dico Ok La vediamo direttamente in casa Ok la vediamo soltanto i consolini dallo schermo E infine andiamo poi a comprare i giocattoli Quindi potete iniziare ad andare nei negozi di giocattoli A scegliere quello che volete Perché se no lì mi lasciate due ore a decidere E io nel mentre compro Allora Questo O questo Cosa più grande e costosa di tutte Il t-rex Rub al t-rex Allora ragazzi non potete esagerare con i prezzi ve lo inizia a dire Perché altrimenti Non ve le compro le cose Quindi scegliete estagiamente Io ne ho già visti uno troppo bello Il t-rex di legno Diecimila Steph Accetto grazie Ma dai Diecimila e tantino Però è un t-rex di legno gigante Prova a pensare È come questo che c'è il negozio Steph Davvero così grande? Penso di sì Oh mio dio Allora a me ne piace uno troppo Ma costa solo mille Quindi mi sa che mi prendo con la pasta È quello che mi piace di più Che cos'è Fere? Perfetto Il roxtardino Roxtardino Dove lo trovo? Lo stavo con la cresta È bellissimo Lo puoi colorare Quindi me lo devi fare fucsia Oh mio dio ma è troppo bellissimo E io non voglio fucsia con la cresta Ok allora Allora questo Fere glielo concedo Luca cosa vuoi? Sono molto indeciso Ok Io prendo magari Gli scacchi No la È indeciso L'acquario per i pesci L'acquario per i pesci? Ma l'ho trovato l'acquario per i pesci Ma dove sta? È vero Ma il fishbowl Questo Luca Ok va bene Va bene Mi sta bene È carino E te lo concedo senza problemi Espi Ah eccolo bellino Dobbiamo farlo davvero? Vai Vai Ragazzi Lo mettiamo Siete tutti d'accordo? Allora sei gigante Assolutamente Io ve lo dico Sei gigante lo mettiamo al centro del salotto Al centro Siete sicuri? Sì vai Assolutamente Ok Ok Andati Allora ho speso 12.000 per voi in totale come regali E ho speso lo stesso tanto di quanto ho speso per la casa Speriamo sia così grande Io non vedo l'ora di vederlo Adesso io ho 18.000 Vado a vedere giusto un attimo Se posso comprarvi una sorpresina E vado anche a comprare un tavolino Per l'acquario di Luca Perché altrimenti l'acquario sta per terra Ed è brutto Eh beh sì in effetti Quindi compro un tavolino Anche se non puoi mettere il suo biletto che c'è in salotto Con lo scappato Eh però magari lo vuole nella sua camera Dai dai metti un tavolino Lo vuole nella sua camera È suo mi sembra giusto Quindi vado a cercare un avvolo un biletto e torno subito Dai forza ragazzi Andiamo ad arredare la casa Finalmente abbiamo un sacco di cose No 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 fermi 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 Che succede Luca? Che c'è Luca? Ho visto una cosa di fianco al negozio di giocattoli Che dovete avere per forza Che cos'è Luca? Andiamo 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 Seguiamola 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 Luca trova sempre le cose migliori Luca ma costa molto? Quindi deve essere bello No 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 Ok ok Guardate questo negozio sospetto Guardate guardate Ma non è sospetto? Sì non c'è nulla Buongiorno signora sospetta Guardatela guardatela nelle occhi È strana eh Luca cosa dobbiamo cercare? Ma non indicare le persone così Allora Vedete un sacco di cose Ma il più bello Sì Ok Il jetpack Cosa? Dov'è? Dov'è? Se scrivete jetpack Ok 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 io l'ho appena comprato Io l'ho appena comprato Costa solo 2000 Ognuno se lo deve pagare per sé Quindi non chiedete a me Aspettate che io lo indosso Aspettate Ok ok Guarda Steph Fare? Ottimo Allora si fonde col mio zaino E quindi ho un jetpack gatto Diventa un jetpack gatto? Sì guarda guarda Sono un tutturo col mio zaino È bellissimo Allora Come l'equipaggio Così così Tacchete l'ho fatto? Sì Sì Oh mio dio Espi Strabello Espi viene a volare Devi fare Q E prendere da sotto E te lo strascini E poi voli E poi voli con spazio Vola Espi Strabello Eh vabbè Possiamo andare ovunque così Quanto dura il turbo Steph? È infinito Vabbè E voleremo per sempre Espi basta che smetti di cliccare Ho visto qualcosa sopra la torre Allora Io sto andando sopra la torre La torre è più alta di tutte Sto andando lì sopra Ho visto qualcosa sopra la torre Steph Ragazzi Ma che cos'è questo posto? Eh esatto Quello che ho visto anch'io Project 12 12 Ok Ok È un ristorante È un ristorante per mangiare? Dall'alto Dall'alto mi sembra un ristorante Davvero? Dall'alto di Stalusso No 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 Buongiorno 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 mi scusi Mi scusi lei Eh ci può dire Oh Cosa vendono? Ferrer vendono una cosa che ti piace Cosa? Oh Aspetta aspetta No ma Steph Vediamo Io sono 35 Oh beh bellissimo questo posto Non hai soldi Ferrer? Ho speso tutto per il genere Si può bere? Ragazzi Ferrer ha 35 soldi Volevo un margarita Ho bevuto un'altra volta Ho bevuto un'altra volta Oh prima 35 soldi Un margarita? È comunque un margarita 150 soldi No ero troppo Si Sono d'accordo Volevo tutto storto adesso Ma perché Espy ha ribevuto ragazzi? Lo sa che non lo regge Sono ubriaco Guarda come vola Espy tu non sei come me Non devi bere Aiutatemi Ma che bello Possiamo volare anche in casa ragazzi E vabbè vogliamo via qua Guarda Possiamo visitare finalmente il tetto Usciamo dal nostro tetto bucato Vai andiamo Ma dari in poi Scusate un attimo Voglio vedere una cosa Teoricamente io posso arredare anche il tetto Guardate Oh Possiamo fare anche noi Il luogo segreto Raggiungibile solo col jetpack Esatto Bello mi piace Questa roba interessante Nel caso lo facciamo in futuro Un bell'arredamento anche qui Mi piace un sacco Però adesso dobbiamo fare le cose serie Allora Io direi che tutti ci stiamo domandando Se Il Dino ci sta Il Dino ci sta Quindi non perdiamo tempo E proviamoci Allora Vado Via 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 Ok pronti Lo metto totalmente a caso per ora Boom No vabbè no Bellissimo È grande come quello del negozio Ma vabbè è troppo grande No che bello Allora Può diventare un'altra scala Steph No 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 Vi prego Non posso usare Lo scheletro di un Dino come scala Mi rifiuto Però è fantastico Allora Ditemi se lo volete in casa O se lo dobbiamo mettere fuori Lo mettiamo fuori Mi sa Apriamo una votazione Fuori Io sono per il fuori Secondo me in casa Non riusciamo a metterlo bene Però aspettate Ci sta il salotto No no datemi un attimo Fatemi fare un solo tentativo Perché ripeto Io lo volevo nel salotto Ma è davvero più grande Di quello che mi aspettavo Ok Quindi Datemi questa chance Così E' un po' ingombrante E' figo no? No è figo eh Io ve lo dico ragazzi E' bello Vi piace? Allora Votazione Tutti e quattro Se lo vogliamo dentro O fuori E spi come da voti Io dentro Ok Luca Io dentro perché non voglio che si rovini Luca È fatto di legno Luca fuori Io dentro perché mi piace Fere? Quindi devo decidere io Sì dai su No a me piace così A me piace così Dai lasciamolo dentro È bello È bello È davvero Come sto Davvero una figata Sì 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 Ok Adesso partiamo con le sorprese Allora questa quella Dobbiamo spostare La metteremo da un'altra parte Perché Teoricamente Ho comprato un'altra cosa Ho comprato una cosa Che vi dovrebbe piacere abbastanza Però Devo dire che me l'aspettavo Più grande Però vabbè Ok vabbè Ci sta Diceva TV montabile nel muro Mi aspettavo la roba gigante Capite? Dai dai Ci accontentiamo Però è la tv carina Poi metteremo ovviamente Il divanino Tutte le cose E sarà una bella tv Poi Allora Venite con me Venite con me Venite con me Cosa c'è? Qui sono scomparti Gli scatoloni Per un motivo Vero Allora Venite tutti nelle scale Tenete calma Tenete la calma ragazzi Si sta appena Ci sta appena Non riesco a salire Allora Direi che non si può mettere qui sotto Ma se facciamo la lotta Fere Capisci mi Capisci mi Capisci mi Dovresti riuscire a capirmi Fere Non lo so Nessuno mi capisce Ho capito Ho capito Sono incompreso Venite di sopra Venite sopra Venite sopra Ditemi Che non è geniale qua Sì Vero Sì È bello Lo lasciamo qua È bello Qua è figo E qui si fa botte Però Manca la parte per completare Questo Diciamo Questo ring Che metterò nel prossimo episodio Perché C'è una cosa per renderlo davvero Effettivo E funzionante Brava Fere Esattamente Ovviamente io sono esperto Ok Allora Seconda sorpresa andata Adesso abbiamo ancora un pochettino Di cose da sistemare Quindi Andiamo prima a mettere le cose Nelle stanze Ad esempio Il rock star dino di Fere Così vediamo com'è Sì è carino È vero È vero Mi fanno emozionare troppo Col ring che mi sono dimenticata Del mio rock star dino Vediamo un pochettino Fuxia Steph Te lo metto qui Ok Ma è troppo bello Guardatelo in faccia È fantastico Lisce colorarlo Steph È sempre arrabbiato come me Bellissimo Allora Siamo anche così No aspetta Fere Li cambia solo la cresta Fuxia Guardalo È bello lo stesso A Espi piace un sacco Vero Ti spiace Espi Bellissimo Mi sono appunto Sì devo dire che È davvero carino Come ho fatto a pungermi Con un pupaccio di gomma È arrabbiato Siamo migliori amici È proprio arrabbiato Ragazzi Siamo bellissimi Che c'è Luca? Vi hanno rubato il salvadanaio Come? Cosa? Mi sa che il cugino di Espi Vi ha rubato il salvadanaio Perché era prendibile? Aveva Non lo so Aveva diciamo una certa fama Da cleptomani No qui avevamo il salvadanaio Non ce l'ho più nemmeno nell'inventario Che l'ha rubato? Ci mettiamo Guardate Ma c'è un pesce? Che bello Ma il pesce? Forse dovevo Forse dovevo comprare anche il pesce Mi sono dimenticato Forse dobbiamo comprare Scusate Ma non basta comprare gli acquari? No Espi mi sta di no Dovremmo capire meglio come fare Ricordiamoci di andare a comprare un pesce Mettiamolo nella lista della spesa Ok Facciamo così Un barbecue Dove lo possiamo mettere? Secondo me è qua Al centro Dite Tipo Guardate così Che bello che è Si può accendere Si può cucinare qualcosa dentro? Certo Se compriamo le bistecche Secondo me Però non le ho comprate Però se le compriamo Secondo me Quella possiamo cucinare Il pallone Togliete il pallone Maledetti Se si poteva cucinare Che figo Ok perfetto Io comunque Non loro Ok Allora Questo mi piace un sacco E ci sta anche bene qui Secondo me come posizione Bravo Luca Bravo Adesso Questo è il mio Può cuocere il pallone Questa è la mia cosa personale Guarda Vai Espi Senti che buon odorino Oh cavolo Mi piace la gomma bruciata Si è arrabbiato Vieni qua pallone Ragazzi No Questa l'avevo chiesta io però No 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 Questa è mia Questa è mia Tutti quanti Toglietevi Dai che crolla Dai Perché me la scontiamo Allora scusate Espi si è preso il dinosauro Luca l'acquario Fere il dinosauro Io mi son preso l'amaca No non funziona così Non funziona così Sono offeso Tu hai giocato Tu hai giocato la nostra casa Vabbè Quindi non meriti Io allora resto qua Addio Ci vediamo domani Spero che ti è piaciuto Tutti Ascettaci un bel like E per la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdere i video E altri fisi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!